Ma aspettate, c'è di più! Se chiamate ora potete incrementare il vostro ordine e provare l'innovativo, rivoluzionario livello di allenamento con l'edizione limitata Total Crunch Evolution. Grazie a una speciale bicicletta ad allenamento integrata, in grado di fornirvi una spinta cardio e il potere brucia calorie dell'esercizio aerobico, combinati con l'aumento della massa muscolare e il potere tonificante dell'esercizio anaerobico, tutto in un unico attrezzo. Total Crunch Evolution offre inoltre un nuovo e migliorato manubrio con una presa più larga per fornire più comfort e permettere una più ampia varietà di posizione delle mani. È sufficiente rimuovere i pedali, personalizzare la resistenza, girando l'apposita manopola e prepararvi per il massimo allenamento brucia calorie e cardio tonificante, fornendo il più completo, efficace e totale esercizio fitness per tutto il corpo. Chiamate o visitate il sito ora per ordinare il vostro Total Crunch Evolution e migliorate il vostro allenamento e i vostri risultati con Total Crunch Evolution ora!